Io ho fatto tanti album, ho fatto 4-5 album in solito, 7 in totale? Sì, ho fatto di album riuscite, credo che ne abbia fatte forse 8 o 9 in realtà. Comunque sia, sì, era completamente una cosa diversa, potevi scrivere qualsiasi cosa ti veniva in mente, ne avevi molte più idee, perché comunque sia, non avendo fatto tutto questo, tutti questi album, tutto questo rap, comunque avevi solo che ad alzarti la mattina e cominciare a scrivere quello che ti passava per la testa, adesso hai da esaminare la base di quello, quello e quell'altro, decidere quale ti piace di più, scegliere se vuoi usare una base piuttosto che un'altra, metterti a lavorare, a fare una cosa che sai fare, mentre prima era una cosa che facevi di certo, così la mattina e poi selezionavi tutto quello che avevi.